Allora partita con Rescazzi E qui chi l'ha fatto? Deve fare i peggio? Dina! Allora possiamo andare oltre tutto Non è? A meno di che non li facciamo sotto invece che ci sono un peccato di sciocco Certo! Due bei passettini Ah Dina! E cosa fa a pensare dei terretti? Non ho capito Bene Bene La pego non è io Vuoi dare la dama? A regola si Ok allora vai a dare la dama Vabbè Non due Non due Non due Non due Io ho scartato questo Tu ho scartato questo Non lo so se hai preso su Non lo so No 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 E l'ha lasciata andare E l'hai lasciata andare Sì Bravo Non sapevo come becarla Questa come avrei dovuto fermarne No no una me la mangiare Da vero? Sì se andavi avanti con Damone Una me la mangiare Sì però era il rischio che c'è Damone qua Mi avresti creato un piccolo problema Damone Una cosa che guarda veramente Fa sesto Allora Sesto Sesto sa Qua E' E' Mettiamo qui, altro con la laida No, forse 8, 7, 6 Allora di 8, 5 Con 1 Potrei dare Quasi sui cilassi E cosa qui vuoi? Il solo profanente dice Lucia è sbagliato Ok, e qui ci metto già Da un metico Quando venire il padre Dico, non preparare uno C'è fatto tempo con i nomi che faccio fare Ok, quello è uno che lo prenderemo noi Ok Allora, vediamo un po' se io faccio quel numero Tu farei quest'altro Ma quello su dei campi non serve Non è così Facciamo questa Esatto Non è così Dopo ci metto Due tre Ah sì Do di poco No Grazie. 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 Noi culacci. Culacci. Quanto? Due boracchi. Vabbè, ora siete fuori. Ah, diciamo 1.600. No, no, no. 3.6. 50. C'è anche i voti 300 punti. No, no. 50. Non c'è più salvezza, Antonio. Non c'è più salvezza. Non c'è più salvezza. Non c'è più salvezza. Antonio, io sono d'accordo nel lasciar perdere. Qua ha preso una piega, questa giocata. E se sei bravo da vincere ti davo mille euro. Se li hai in tasca o ce li hai sotto la letta? No, beh, posso anche aspettare. Di darle? Di darle. Ah, prima... Mi ha comune? Sì, no, no. Non c'è più salvezza. Non c'è più salvezza. il giusto quale mangio? sei fortunata signora andiamo a fare due cose ciao 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 giochiamo il finale nei pescacchi opposti ciao 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 Grazie a tutti. Ai, 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 ai… Non so perché è scattato un 3. E tu perché hai messo un 3 lì? Con un 4 che non era mai quella scala lì. Hai due 3 in mano, ne hai 3 in vintamola, uno lo butti via. Posso rispondere? Mi sa, Marisa, veramente. Eh, ma è giovane, la Marisa impara, impara veloce. Abatti con questo. Ero cinque. imparo super veloce subito lo devi fare no 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 aspetta 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 te gioca ci vogliono solo che andare via ma andiamo lo stesso allora si si ma se io tornerò ben dietro ho voluto fare questo dopo aver fatto scolarizzare prima no 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 stavo pensando che devo proseguire lì adesso siamo siamo al punto capo è uguale è uguale in tutti i modi è uguale dai bella partita dai identico preciso